E' stato ripulito il monumento ai caduti presente nella villetta di fronte la stazione ferroviaria di Sapri, imbrattato nei giorni scorsi con scritte anarchiche. Un gesto che ha scosso la città della Spigolatrice, ma di cui ancora non sono stati individuati i responsabili. Le forze dell'ordine stanno lavorando incessantemente per dare un'identità agli autori, ma non è ancora chiaro se si tratti di persone appartenenti a un gruppo anarchico del Golfo di Policastro o qualcuno di passaggio. Di certo l'atto vandalico non è passato inosservato, le scritte infatti hanno danneggiato un monumento caro ai sapresi connesso al concetto di patria e che ricorda giovani vittime delle guerre e anche se ripulito resta il brutto e immorale gesto. Ad indagare su quanto accaduto polizia ferroviaria e polizia municipale che anche attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona sperano di risalire presto ai responsabili che hanno danneggiato su tutti e quattro i lati il monumento, con frasi scritte con spray nero e rosso che richiamano i principi dell'anarchismo.